Mi chiamo Giuseppe Napoletano, ho 48 anni, sono sposato, ho tre figli, sono laureato al Politecnico di Torino, in geria meccanica, dopo aver lavorato per 20 anni nell'automotive in diverse multinazionali tedesche, francese, americane e italiane, ora sono passato a lavorare nell'ambito agricolo e sono emigrato in settimana a Milano come responsabile tecnico. Nel movimento sono sostanzialmente dal 2008 che sono iscritto ai meetup, prima a Rivoli poi fondato un meetup Venaria Druento e poi insieme a altri finalmente abbiamo un meetup abbastanza consistente e abbiamo portato avanti le battaglie per il bilancio partecipato, per i rifiuti zero, contro l'inceneritore, contro la TAV perché abbiamo anche delle persone che sono molto attive all'interno del gruppo nell'OTAV e poi la campagna politica 2013, quindi i banchetti per le politiche e adesso a questo punto come meetup ho dato la disponibilità per poter andare a lavorare in consiglio regionale e in particolare potrebbe interessarmi lavorare in ambito lavoro, in ambito trasporti, energia, discorso di energie rinnovabili, trasporto per andare, possibilmente andare verso un discorso di modularità nel trasporto, quindi biciclette con treno, parcheggi per i treni, questo è il grosso di quello che mi viene da dire insomma, ok.